Ah, non è dubbio. Il fatto è che mi sono già messo d'accordo con un altro distributore. Eh, no, Cristo. E chi sarà mai? Io credo che tu già sappia chi è. Credo di sì. Sempre amici, eh? Gli affari sono affari. Ma sì, uno deve fare solo il suo interesse, vero? Mi fa piacere che tu la prenda così bene. Una birra? No, no, grazie. Però ricorda, se dormi con i cani, è facile che ti svegli con le pulci. Aspetta un minutino. Avrei qualcosa da dirti. Tu non mi puoi dire niente di interessante. Ah, io ne dubbio. Scazzatalo bene, bubba. E niente stronzata la Kung Fu, eh? È impiazzata. Carichiamo sto figlio di puttana. Forse l'ho un po' troppo appisolato. Giù. Via. Via. Giù. Dai. Ecco. Ecco. Apri. È andato giù come colpito dalla setta. Sì, povero Angelo. Che sognerà? Dai, dai, ora andiamo. Ehi, bubba. Ora portiamo questo figlio di puttana alla palude e andiamo a pescare. Credi che abboccheranno? Che razza di domande. Abboccheranno e come dopo che avranno assaggiato lui? Levagli il fiato di lì! Ehi, bubba.